Musica Esco Stumanzi, arribo a un mese agosto, affa che su bilancio vinale desista l'ione turistica, a Canlo e Meda andano in ferie, ma quest'anno pure si può affacchere un primo bilancio di cui sa chiede più a te essere un'istagione ispantosa per la Sardegna. La gente è ben data arriva a Meda, come anche i testimoni hanno ammescato il suo numero di sottresa l'aeroporto Sardoso. Il suo castello ha festato il record rispetto a il suo anno passato su 31 del Lampado e ha contato per il suo schiantamismo passeggeroso. Sono andato bene, però, fin da sottresa l'arighiera di Terranova, che si conferma che a livello europeo abbia trovato i cani soltanto per usare tutto il getto privato. Ma a fronte di questo numero, l'albergatore, il ristorante e la pizzeria sono a lamenta per un istagione che non ha ammanteso la spromessa della vigilia. Il suo turista ha sempre spruccato su chi spende, però non è che le inflazioni aumentano senza considerare, in Meda si hanno deciso di abbarare in domo o di andare a Terube, Uvesigastata, Pruspacu, Prusubiazzo e Prusapasada. Mese agosto, in domo. Su nome è da Sos Casteldaio, che pronecchi dei osaumenti di segheraosi in sud o mese 23, hanno deciso di lasciare sarvaligiasi, sarmoa e decolare, custodia di Vesta, che in parentesi è amicoso. Pace spesa, in Mesa Puru, e separando il manico stipico della cucchia in Casteldaia. In Soscar era il suo centro storico, in cui sardesare, butteca, un oppore dei turisti arrivati a Casteldu, Pro Mirare, la bellezza, la storica e la artistica sua, dove la cultura non si firma, manca a Mesa Gusto. Da il Palato delle città, che è il suo personale dedicato a la fotografia Inge Morat, a la Galleria Comunale, che ha la collezione permanente di arte italiana di un nuovo weekend, la collezione Ingrao, la collezione Sarda, che ha la scultura di Francesco Ciusa, e il suo museo di arte sia Mesa, Stefano Cardu, dove si può debire una collezione ispantosa di arte orientale. Dunque, non pezzimare in Casteldu, che non ti mette a mostrare a sosturista su una proposta culturale deprimore, che non ha nulla da invidiare a terra la località desi europeasa. Sartigianao confirma sa professionalità desappunnaturistica sua. A Saveziglia del Mesa Gusto, su Fischio Studior del Confartigianao e Impresa Sardinia, va che tu no primo bilancio di sotturismo in Sardinia, caso il settore rappresenta tu no opportunità demana dei sviluppi e creschi da pronupore dei settori schiandran a manutenta. Sul legame neintri artigianao e turismo sa forti a Tannu Chinannu, e processi impresa a Nostra, a serde profetto, capodendare produttori e servizi orde calidade, apprezzia ormai da desi os turistas casunus espressada desi originalidade e desa particolaridade sarda, nata Maria Melialai, presidente del Confartigiano e Impresa Sardinia. Amus un'azienda manna depurrida su turista, ma che in cesa professionalidade, sa ganade investire su coraggio di arriscare desi osi imprenditori e nostro su turismo non si diate sfruttare chi in profetto. Se emizze se schento il 23 realtà desi artesanasa, prurde se chi emizza dipendente, sul numero desi studi muestra anche su turismo e su artigiana o su uno complementarese e si deve promuovere e vendere parisi. Non di più muo rende sconto chi come sprecisa programmare, promuovere e guerrare, pro rendere plus attrattivas a terra nostra a maniera da esilapodere e gozare mezzo su si attasos turistas e pro tenono noi spuro su tal linea tasa presidente Lai. su comando provinciale desi oscarabinieri di Nugora tamania un programma di servizio e controllo pro garantire di erdeme a gusto tranquilla a residenti e turisti che in custa di esana prenausa località desi turisti car di su Nugora e desi o Zastra sul militare esana prevenne reso reato scontra sa sicurezza mescamente in sa costera a suve commo va prurzente che in sa per osicchirmenticare desarzonasi internas pro garantire a chi ha barratimbida o non si chistresi ammesda una vesta in tranquillidade su comando provinciale di Nugoro ammenta su numero unico europeo prosas emergenzi sa succhente e doichi disponibile a dia a notte pro collire cada richiesta di Azzudu Un progetto patrocinato desamministrazione comunale desorso che vieti in pinnaus a sozia acquatica asd e salias service da esempio in prima linea in sa tutela ambientale desulitorale sardu a presentare esa manifestazione sa capitaneria de porto turre che in personale a terra e mare che ha tosservato su traballo desorbagnino o persone specializzate a schiena mustra o differente situazione desalvataggio a ss a ss a ss ss a ss a Grazie per la visione!